Oggi parliamo di speed, non quello speed, no neanche quello. Stiamo parlando niente po' di meno che dello speed del sistema pubblico di identità digitale. Ma che cos'è lo speed? A che cosa serve? Come possiamo recuperarlo? Quindi oggi vedremo come ottenerlo e quali sono i vantaggi. Lo speed del sistema pubblico di identità digitale promosso dal governo permette ai cittadini e alle aziende di accedere con un nome, utente e password a tutti i servizi online della pubblica amministrazione e dai privati aderenti. Con lo speed infatti ogni cittadino può ottenere la propria identità digitale per accedere a tutti i servizi online presenti nella pubblica amministrazione con il vantaggio di non doversi registrare a ogni singolo portale e ricordarsi centinaia e migliaia di password. Non me le ricordo più, basta. Quindi lo speed è tipo un passpartout che facilita l'accesso a tutti i servizi online. Ma che cosa serve? Come si usa? Ebbene, serve per iscrivere i figli a scuola, prenotare una visita in ospedale o in qualsiasi altro centro, richiedere il bonus mamma, registrare un contratto di locazione, accedere ai 730 online, anche pagare il bollo, consultazione del CUDA, tutti i servizi IMS. E per richiederlo serve un indirizzo email, un numero di telefono, un documento di identità valido elettronico come passaporto o carta di identità elettronica con la tesserina per intenderci, la tessera sanitaria con codice fiscale che tutti abbiamo. Ma tanti potrebbero dire, è la mia privacy? Dov'è la mia privacy? Ebbene, con lo speed i dati sensibili dell'utente sono protetti. La privacy è garantita. Ma pensiamo molto più in grande, la velocità di compiere quelle operazioni burocratiche. Niente più fila agli sportelli pubblici. Basta connettersi a internet con un pc, con un tablet o uno smartphone e accedere ai servizi della pubblica amministrazione in modo semplice e veloce. Quindi basta con le attese. Non le vogliamo più. Ma come possiamo registrarci a questo servizio da casa? Ebbene, utilizzando questo, uno smartphone. Ormai tutti noi abbiamo uno smartphone con la funzione NFC. Ah, NFC, ma che bella parola. Ma venite con me e vi faccio vedere cosa è l'NFC e come si attiva nel vostro smartphone. Molto semplice, fidatevi. Non abbiate paura. Ecco, per attivare l'NFC basta tirare giù la nostra tendina dall'alto verso il basso e trovare questa icona. Fatta così. Se noi abbassiamo un pochettino di più vediamo scritto NFC. Infatti noi dobbiamo cliccare, è attivata. Quindi riabbassandola vedremo attivata, evidenziata. Quindi in questo caso è a posto. Per avere uno speed gratuito, perché ci sono varie piattaforme che vi danno un speed, ma per averlo gratuito possiamo accedere al servizio delle poste abilitato allo speed. Io vi lascio il link in descrizione. Quindi da qui basta scendere e facciamo registrati subito. In questo caso ci chiederà di scegliere lo strumento di identificazione. Cosa significa? Che noi se non abbiamo una carta di identità elettronica o il passaporto, possiamo farlo un riconoscimento di persona. In questo caso utilizzerà la fotocamera dello smartphone e una persona dall'altra parte vi identificherà. Ma adesso noi che abbiamo attivato l'NFC, come vi ho detto, possiamo farlo da casa in 5 minuti. Quindi scegliete la seconda opzione con app poste ID. Quindi clicchiamo qui, scendendo, vi chiederà di tenere a portata di mano il documento di riconoscimento, quindi passaporto o carta di identità, la tessera sanitaria e l'app poste ID. Non avete l'app poste? Scaricatele in una di queste due opzioni. Adesso dovremmo creare un'app di poste. Quindi dobbiamo avere il nostro indirizzo mail e la portata di mano. Cliccate qui sotto registrati. Dopodiché cliccate su documento elettronico. Se avete un passaporto oppure una carta di identità digitale, come vi ho fatto vedere prima. Se non avete queste opzioni, potete fare un bonifico oppure potrete fare il riconoscimento di persona utilizzando la vostra webcam. Noi in questo caso utilizziamo documento elettronico. Ecco, dopodiché dobbiamo seguire semplicemente queste istruzioni. Inquadrare il documento elettronico e registrare un breve video. Ecco, in questo caso vedremo questa barra laterale. Dobbiamo prendere il nostro passaporto e inquadrarlo. Perfetto, adesso che è inquadrato il mio documento, andiamo avanti. Ecco, come avete visto in precedenza abbiamo attivato l'NFC. Cosa significa? Che noi dobbiamo prendere il nostro passaporto e metterlo dietro al telefono. Sta leggendo. Fatto. Ha letto il nostro passaporto. E andiamo su Procedi. Adesso dovremo registrare un video cliccando su Procedi e dovrò dire Mi chiamo Cristian Lombardo e voglio Speed di Poste. Mi chiamo Cristian Lombardo e voglio Speed di Poste. Ecco, adesso dobbiamo scattare un selfie con il nostro documento sotto al nostro volto. In questo modo. E andiamo avanti. Adesso dobbiamo semplicemente caricare il nostro documento Cliccando Residente in Italia o Residente all'estero E inquadriamo la nostra tessera sanitaria. Prendiamo la nostra tessera e inquadriamola. Dopodiché clicchiamo OK. Perfetto, adesso possiamo andare avanti. Inquadriamo il retro e in questo caso vedremo anche il retro. Andiamo avanti. Adesso dobbiamo semplicemente cliccare su Continua su questo dispositivo E il gioco è fatto. Nel gioco di poco tempo le poste vi manderà una mail E voi avrete il vostro speed che potrete utilizzare. Lo so può sembrare difficoltoso Ma seguite passo passo queste istruzioni Guardando il video, mettendo in pausa E magari tornando indietro se non avete capito E andate avanti. In questo modo sicuramente riuscirete a farlo. Non vi preoccupate. Buttatevi e vedrete che ce la farete. Quindi ci rivediamo al prossimo video Mi raccomando iscrivetevi al canale E accendete la campanella che trovate qui sotto. Ci vediamo alla prossima. Rimanete sintonizzati. Ciao! Ciao! Ciao!